meravigliose creature che non siete altro non siete altro che meravigliose creature 13 febbraio 2023 febbraio febbraio mio le persone non si rendono conto della tua potenza pensano già a marzo pensano già la primavera pensano già al sole si sole viene illuminami cresci cresci sempre di più e intanto febbraio spatapumpete ogni volta nel 2020 con la pandemizza 2020 2021 nel 2022 con la guerra il 2023 lo avevamo anche un po accennato a dicembre quando feci la diretta sul chi delle nove stelle sulla numerologia l'anno che ci stava aspettando su per giù anche a livello collettivo il cielo il cielo è arrivato febbraio ed ecco che avendo cambiato volto l'energia che va a nutrire tutti quanti perché succede questo no proprio a fine gennaio inizio febbraio quando i cinesi festeggiano il capodanno è che cambiano le energie l'avevo accennato già che sarebbe accaduto qualcosa nei cieli cosa vuol dire vuol dire che l'energia l'elemento che governa il collettivo si appresta ad entrare in un energia molto attiva un'energia che va verso l'alto un'energia che punta lo zenith che punta all'estate e l'energia della mattina della primavera e il 2023 come già detto è un'energia che accresce e sviluppa quello che già c'è accresce sviluppa quello che già c'è perciò 22 è iniziato il conflitto sempre febbraio ed ecco che 2023 si sta parlando già di costruire fabbriche di armi laddove c'è il conflitto se tu costruisci armi e fabbriche di armi non è che hai intenzione di finirla a breve no sta storia ma entrando con un elemento che ha a che fare con il vento ha a che fare con l'aria a che fare con l'energia della primavera l'energia della primavera c'è una situazione di crescita di accrescimento e sviluppo e parliamo proprio di di aria di di cielo se nel 2020 2021 con un elemento autunnale noi eravamo predisposti a guardare verso il basso perciò verso l'autunno verso la sera prendendo ad esempio il periodo del giorno ecco che per il 23 ed il 24 saremo costretti a guardare in alto e manco a dirlo nemmeno a farlo partire sto febbraio ed ecco che arriva ciò che sarà l'argomento anche dell'anno uno dei tanti argomenti dell'anno vi ho già detto anche il cibo sarà un argomento predominante ma anche i cieli e ciò che ci svolgerà in cielo sarà un argomento molto importante avete visto no gli ufo sono arrivati gli ufo gli oggetti non identificati che sono stati abbattuti dall'aviazione americana da quella canadese da quella cinese sembra di cominciare un film di quei film dispotici dove a un certo punto arrivano gli alieni comincia la guerra no independence day tutto così parti piano piano come partì ai tempi la pandemenza piano piano eh ah sì c'è un cinese abbraccio un cinese non ti preoccupare non è niente poi sprompete spero che non sia in questa maiera però io non sono qui a fare un video per dire ah ve l'avevo detto non me ne frega un'abbiata minchia di questa cosa qui veramente sono qui continuamente ed ogni giorno a ricordarvi che il movimento ciclico della natura già ci può dare tantissimo già ci dà tantissimo nel senso che ci dà la possibilità di vivere questo miracolo di vita ma ci dà la possibilità anche di lei di leggere quello che sta succedendo quello che succederà in qualche maniera perché se io so che tra poco primavera tra poco arriverà la primavera perciò 2023 2024 saranno governati da un elemento che ha a che fare proprio con la primavera quest'anno con un elemento primaverile certo ma una primavera inoltrata una mattina inoltrata cioè che agisce sullo sviluppo delle cose sull'accrescimento delle cose e si parlerà di vento come vi ho già detto vento aria cielo in alto gli esseri umani se nella pandemia nel 2020 21 erano diciamo orientati ad andare verso un autunno a richiudersi in casa un distanziamento sociale tra l'altro anche quella magica coincidenza fra virgolette magica con l'elemento è l'organo correlato all'elemento cioè i polmoni le polmoniti tantissime cose 2020 2021 erano governati da quel tipo di elemento elemento autunnale poi arriva come sempre ogni due numeri un numero terra che è lì che cerca di riassestare perciò al numero terra arriva la politica arriva la guerra arriva il terremoto terremoto poi nel 2023 un elemento che accresce e sviluppa già quello che c'è anche a livello di terremoto avete visto cambiato l'anno e c'è stato un grande terremoto e badate bene ho fatto delle ricerche non parlo a caso negli anni che sono governati da questo numero che è il numero 4 nella numerologia di cui mi occupo io il chi delle nove stelle bene i numeri 4 negli anni 4 sono arrivati tantissime devastazioni soprattutto a est e tantissime situazioni che si sono sviluppate in cielo non vi sto a dire ora che cosa si sviluppava in cielo però insomma è sotto i nostri occhi si sta sviluppando si sta manifestando sotto i nostri occhi e io sono qui insomma a ricordarvi continuamente di potervi innamorare dello studio del movimento ciclico della natura innamoratevi innamoratevi non cercate il partner basta con questo partner domani è san valentino innamoratevi del movimento ciclico della natura perché questo vi può dare sia quella potenzialità interiore che vi serve per portare avanti i vostri progetti per risolvere i problemi che ci sono alcuni problemi sono anche grossi alcuni problemi hanno bisogno della vostra energia perché la disperdete così l'energia guardando la pandemia in sacanora giudicando gli altri giudicando se stessi nel lamento se vi innamorate del movimento ciclico della natura avrete sempre un partner accanto che non vi può dare altro che amore continuo vi può dare altro che bellezza bellezza e nel frattempo vi dice anche chi siete le vostre virtù le vostre doti i vostri talenti vi dice anche aspetta ma non spendere energie in quella direzione perché in quella direzione almeno io qui nella mia mappa vedo che non ho una minchia niente per quella strada vai in quest'altra direzione perché è la tua natura sei colorato in una certa maniera hai delle doti che nemmeno ancora sai di avere che dirvi meravigliose creature stiamo sognando anche tanto tantissimo questo ho fatto un post così dicendo ma magari ora qualcuno mi dirà qualcuno mi dirà ma sì ma no non è vero che invece sembra che tutti in questo momento stiano sognando si stiano in qualche maniera sintonizzando a livello inconscio a qualcosa qualcosa di speciale è qualcosa di speciale abbiamo cominciato un cammino insieme ed è impossibile tornare indietro ora loro tra virgolette loro prenderanno cavalcheranno sempre l'onda no perché loro sono bravi a cavalcare l'onda non sono mica come noi noi passano l'onda e ci scansiamo anzi a volte ci facciamo travolgere invece loro la cavalcano allora aspettiamoci quest'anno che possa succedere qualcosa nei cieli nei cieli è già successo sta succedendo proprio ora in questo momento aprite i notiziari e parlano proprio di che abbattono gli UFO abbattono oggetti non identificati chi ha forma ottogonale forma cilindrica che sono grandi come un utilitario gli hanno detto immaginate una macchina tipo una panda che sta a 20.000 metri sopra la terra e lì arriva un caccia e lo abbatte e chi lo abbatte dice non sappiamo come si muovono non sappiamo cosa sono non li abbattiamo ecco ecco proprio il fare dell'occidentale l'occidentale l'occidentale depresso ma questo ve ne parlerò in un prossimo video hanno un prossimo pippone nel frattempo io vi dico che siete meravigliose creature non dimenticate mai che siete meravigliose creature via anche vi rammento non posso più dare amicizie su facebook ok su facebook sul profilo non posso più dare amicizie mettete il mi piace sulla pagina eddy pellegrino e ci vuoi per il risveglio anche perché tra poco vedrai comincerò a farli da lì i video e le dirette amici di youtube mettete l'iscrizione se se ne avete voglia e telegram meravigliose personaggi che non siete altro che siete lì eh su telegram posso dire quello che voglio un pensiero e un abbraccio anche a voi grazie della vostra preziosissima attenzione come sempre forza amore coraggio e volontà attenti agli ufo stanno arrivando grazie a tutti grazie a tutti